sono mario sturniolo ma cos'è perché ti sei fissato con questa roba certo sono mario sturniolo sì sì ciao gianmarco ciao anche a te buonasera ragazzi ciao ciao cosa si dice che ti bello inviate biselli live per favore si parlava live si parlava di annarita ma chi annari non so non so nemmeno un video di una scimmia proprio poco tempo fa quindi il collegamento scusami sì e no beh nel senso comunque chi è annarita sua madre con annarita e finisce con una scimmia che sono io ecco ok quindi annarita non è una scimmia appurato ma come sono andate le vacanze dario ma ci sia no perché non mi devo non dirmi che ti ho chiamato la roba del dente che ti ha fatto lasciamo stare basta dai abbiamo finito qui dai non c'è bisogno andare avanti però ci fate ovviamente la roba del dente il giorno prima che vai sulle montagne da duemila metri sarebbe stato meglio sarebbe stato meglio gianmarco avere il dente spezzato con il nervo così a ventaglio in trentino alto adice sai cosa vuol dire non lo so il dolore più atroce della terra tipo è secondo dopo al parto quindi non direi di no sono a posto ho preferito patire un po le afte accidenti ho avuto semplicemente merda perché così era maledito mi aveva lasciato te la macuba è comunque per questa storia dei sub mi ha lanciato la macuba sicuro al cento per cento che stai dicendo ma che stai dicendo che dici si è murray dove l'avete lanciata subito subito vedi quando si è così in alto ci si sente sempre attaccato guarda io ho levato il sub goal non voglio più sentire parlare di queste stronzate le lascio a voi che in basso di dario mocha emoji del re e emoji del king si ma sono cose tue sono cose tue ma non è vero ma guarda io lo so perché io so che gioco stai giocando te lo so che gioco sto giocando scusa e ora stai facendo te stai facendo questa cosa qua così almeno abbracci questo meme poi vedi io riesco a riconoscere anche gli altri re quando io non voglio partecipare a questa stronzata il tuo pubblico beota scusa mi scuso il pubblico beota va dietro a questa stronzata io non voglio essere il re di niente non lo sono mai stato e sto bene dove sto oh è già marco il re viva il re ma se lo chiamano pure loro il viva il buca di twitch stiamo un po esagerando dai fermiamoci uno stariva il ducato a esatto è questo intendo proprio questo nello grazie sempre da quando ha iniziato a fare twitch quale il frontman no 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 ho capito ho capito a cosa ti riferisci si sono cosa 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 leader delle band musicali gian marco il discorso è chiaramente chiuso mario mario sei il nocciolo di questa piattaforma assolutamente ci fermiamo un attimo e parliamo delle vacanze come aveva detto gian marco prima dice lega lega che sei nocciolo una cifra e sono contento ciao sono dice 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 di essere un grande di chi è questa canzone mario dice di essere un grande si fa così non lo so zucchero male ma bravo bravissimo relative a cam non mi va di no staccarla da chi metterla di cliccare attiva fotocamera vittuale anche rena in top lane frizzare lei non sai senza niente ma se è rinchiuso come talent è come italia in dettale scout non sai ma sì perché non mi fa ma non mi fa perché dobbiamo giocare ma non ha senso adesso ma cosa vuoi fare noi giochiamo a che cosa a cosa facciamo qualcosa non c'è uno mi cose città dai e che dai mario si va a lui sul sicuro con un bel nomi cose città vai sempre ci sono d'accordo però voleva fare intesa vincente però siamo in tre dove vai c'è una cazzarola è intesa vincente era no beh che pensi che non troviamo quante persone servono che servono tre persone servono a parte noi che non li fa due di due lo devi a team ma tre persone uno che deve indominare gli altri due che gli fanno la cosa come come classico data non c'è non basterebbe basterebbe cioè bastiamo sono intressi grazie pippo si potrebbero fare si potrebbe fare anche in tre con uno che indovina effettivamente è capito però magari possiamo trovare i tre sfidanti un po esotici li troviamo è antiesodici è bello dire dario se vuoi fare nomi città e cose città nomi cose città che perché mi piace a marco adesso pure a correggermi cosa da prima fra 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 città e cose comunque è una rottura di coglioni però contesta sentito ho sentito perché ho sentito un anni adesso ho scritto a nanni ha detto non passa perché c'ha voglia di rilassarsi non è del casino allora ragazzi se volete fare nomi città ma comunque nomi cose città e quando siamo in 7 8 in tre che senso ci penso io a scautare qualcuno non c'è nessun problema non c'è nessun pensi veramente di non trovare delle persone trovo le trovo io adesso ma per nomi così città o per intesa vincente per tutto lo trovo io mario sturnolo no bro la devi finire qua perché che viene in chat perché mi rompono le palle a scrive sempre sono mario sturniolo visto volete ha mandato quel pisellone gigante e bro è detto subito non si fa così ragazzi non si mandano più se io su quelli sto provando un po a lottare ragazzi perché non così arrivano quando diciscono mario sturnioli piselloni giganti forse qualche responsabilità ce n'hai pippo le 5 di stade arrivo dario arrivo grazie davvero eccolo la viene da dire che c'è lo grazie di alza abitata e anche sugli abbonamenti normali è anche sui abbonamenti fino fino a oggi c'è finisce oggi dice ora fra un minuto stranamente oggi poi dario quando non è stesso scanto sconto delle ieri sono tornato e poi non lo sapevo l'ho saputo alle storie di manuccio pensa che come sono messo sono spiegne con rp alla fa pure le storie dove fa sapere che cosa succede su twitch ci credo a 4.000 spettatori dell'rp ora farà rp per altri tre anni dai siamo a posto con manuccio siamo giocato regge manuccio regge da quanto lo fa lo streaming da due anni da tre anni e troviamo dai troviamo tre sfidanti tre sfidanti ma non gli voglio rompere i coglioni perché si diverte lui io ho già scritto io ho già scritto io ho già scritto niente ok va bene è finita che mi sa che viene ucso ci andiamo a ficcare dentro dai fazzone ho sentito anche e poli poli viene ha detto come il fazzone non hai sentito real ha scritto davvero si aspetta io posso scrivere direttamente tutti in spicca no mamma staffa la casa scania no il tumore di twitch italia vabbè la caizia ovviamente e comunque grazie speriamo speriamo che che si possa diventare protagonisti di un grandissimo evento di intesa vincente stasera con il nostro amico a però dicendo ti sto dicendo che c'hai ragione sarebbe io e io ti sto dicendo di smetterla con questo atteggiamento te l'ho chiesto esattamente tre minuti fa tre minuti fa ti ho chiesto di non dire sono mario sturniolo grazie a battimento non l'ho detto ci abbiamo ci abbiamo secondo me comunque poli ce l'abbiamo se sei uomo chiama se sei uomo chiama i ciccio gamer se sei uomo chiama i ciccio gamer poli ciccio gamer poi ci metti magari kasumi sen così dal nulla la tiri fuori no nessuno non si possono fare battute ma con kasumi è un pochino confiato esatto sei come su un pavimento di cristallo non assolutamente perché 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 se dici tipo culo più di una volta ti denuncia la postale cioè non ha voglia di grazie scania team per le cinque sempre calate io mi muto un attimo ringrazio tutti dai voglia ragazzi sì sì no ma voglia no dai arrivo 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 raggiungo un attimo poli 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 sei mettere la bomba differenza dell'ebete fa in chiamata o madonna così pesante ogni ma non è possibile c'è il quale guadagno 400 mila euro al secondo ma scusa no io non so ma se io metto la virtual cam qui adesso la devo disattivata bs fazzone ti chiamo aspetta un attimino facciamo disattivare la sua bs se devo se metto qui la virtual camera no basta che metti su bs c'è la sotto avvia registrazione c'è attiva fotocamera virtuale l'attiva e poi basta e poi niente attività c'è lì termina diretta poi sotto avvia registrazione subito sotto c'è ferma la fotocamera l'uomo levati a pigia attiva fotocamera virtuale dove vaffanculo giammatico grazie pampa grazie dal che grazie al battimento il problema indubbiamente questa cosa ha rotto un po tutto ciao fazzone non è una colma sonica con il basso mi riesco a mettere la guarda che ce l'hai fatta con le statistiche però ce l'hai fatta a chi c'è chi stiamo ma non c'è poli organizzi tornei mondiali 50.000 grafiche c'è veramente la tua ragazza che scrive alla mia e non riesce attivare la camera virtuale entra la sua ragazza veramente senso nel discorso diciamo che cosa hai detto prima scusa ho sentito una parola ho chiamato il fazzone ti volevo chiedere ti volevo chiedere diciamo no prima del fazzone ha detto che ha detto ducati perché ho visto prima un video di moto stiamo chiedendo un 3 v3 intesa vincente fortissima da dio ha scritto nomi cose città no è una stessa cosa qualsiasi cosa fazzò qualsiasi cosa che tu desideri anche eccolo con lasciate tutto per farò per far vedere che c'è il subgoal incredibile lo sai benissimo che è per un'altra cosa ma perché aspetta prova invitarlo aggiunto forza nono è un incubo già oh iso 800 però iso 800 ci sta dentro oddio manux hanno staccato il tubo eccolo c'è il riavvio dei server che cazzo sta succedendo ma non so grazie di aver rinunciato a 23 mila spettatori per noi per l'amicizia ma guarda che è una cosa incredibile quella che sta accadendo avanti a noi eccolo bravo ma non così poi vabbè piangi nelle storie però per ora non piange per i numeri piange per la gente che lo tratta male è diverso ma non piango ma dove piango è un modo di dire ma che torni tu a posto no 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 siamo tornati all'antilo qua eh sediti su quella cazzo di sedia e cominciamo a fare sta cazzo di cosa per favore non mi farà alzare la vostra cazzo di Dario mi sono già rotto le palle mi sono già rotto le palle ma che sto vedendo ma infatti non dovete limitarvi a guardare gli dovete dire di smetterla oh Dio no io non posso fare così vabbè quell'altro ha pubblicato tutto il coso oh fai una cosa Poli 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 scrivi direttamente Prima Poli sulla schermata al volo dai così metti in testo oh ma oh Dio hai fatto la cosa del naso con la pepola no 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 eh ma muschio ma muschio muschio vuole organizzare un 3v3 mandoro balocco ciò che voglio sì mandoro balocco questo sì 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 procedere per imitazione quello non sei ma da un mese capire sta carico oggi vabbè ma Polino pandoro o panettone Mario io solo pandoro balocco mare ma puttana questa è la mia scelta cazzo certo per i comunisti no che si riparta da Dario Bonccia italiani no Dario Dario poi brutti scherzi un attimo prima faccio così Mario ma perché parli sempre sopra gli altri ma falli ma falli un attimino esternare quello che lui pensa no esternare se nel momento in cui non è una cosa così così grave così gay grave io ho sentito gay ma come ti permetti scusami eh non si può fare così non fare così ma non fare così Mario non fare così sclero come rubino sclero 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 è diventato è diventato aspetta che è ottimo faccio il netrix è fnaf ragazzi ma più moda 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 challenge da moda un attimo rubino grazie però fatta bene se apre se apri la stream ad essere maestro si arrabbia anche fatele con così su discord quando non ci sono io maestro ragazzi fate sta fate stamp fate stamp così la mettete nelle storie di manuxo stasera cazzo quello che è bacini coreani quella è bacini coreani grazie per il supporto in live stasera mori non sto capendo un cazzo no è già però ragazzi annuncio grande run di del camion col volante col maestro eh lo dico subito facciamo foto facciamo ponte con il più coso di dolly noire voglio perché non so mettere dobbiamo fare ponte d'era che non so cosa mettere ponte d'era gran canarie con il col 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 pullman col pullman allora ragazzi ora si gioca oli 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 poli poli beat down 6 o del poli beat show poli beat show down del poli beat show down non puoi dire ho visto gianmarco ti ho visto ti ho visto la faccia la faccia più innocente della storia del calcio quella è un po' di prese per il culo sul naso in alcuni video contento che tu l'abbia notato fazone non mi è piaciuto questo comportamento del signor gianmarco d'occo ma stai a diventa zano a risa stai a diventare che johan cruis ha fatto due spari di 4 e 5 vai che ti ho messo la nave ma quella è battaglia navale c'è in testa dai ragazzi ora facciamo una scribolata al volo mamma ma non ti piace intesa vincente ma parliamo un po' ma parliamo un po' ma parliamo un po' se no parliamo ma dimmi un po' di vibes del fabom bel taglio fresco giochiamo a qualcosa di vibes giochiamo a qualcosa ora che taglio sembra drake sembra no sembro mahmood 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 che cazzo c'entra mahmood è gay che cosa c'entra bbè più più importante che ha portato anche a sanremo soldi soldi non è vero non l'ha portata ma non è vero supposto si vede sempre di nero ma non ho cantato faccio il palermo noi è il proprio tipo poi secondo me facciamo il codename bello però bisogna preparare fai te fai te fai te vai grazie poli poli grazie davvero si fa la pil di cappette ma con quale risoluzione io ti vedo bruttissimo sui pixel ti vedo confermata pil di cappette tra l'anno fermata dovete dire in prima se non vengono io sono disposta da 20 mila euro di cash e pantella se vengono ai pantella si voglia che partecipi ma non avranno mai giocato a capo e dimmi da loro voglio e pantella senatica 150 mila euro di budget per mattarella nella bild di cappette non può venire è impegnato non credo possa farlo tra l'altro di accettare soldi privati metti che imposta codenames al volo prima che mi capite dire nuove parole però perché se lo spiegare cos'è codenames senza prendermi per il culo quindi già complicato da spiegare delle parole facile a giocare che faccio da giocarlo è facile buttami parole dimmi la faccia di merda per favore ti trova quella tumore a tumore metti muore poi metti rubino 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 metti nasone alzato metti cartilagine di una cosa lì c'ho dei fazzoletti che sono progetti coppa go bella vai perché stiamo fa codenames però con le parole nostre ma certo per forza ma che cosa balla guarda guarda che muzza guarda l'ho snodato il molleggiato molleggiato è già marco hai visto quando ha fatto a chiacchierato nei coperti ci ha salutato tutti dopo la maratona sembrava a cazzo celentano col capello così un po' terribile quale io ho paura ma qualcuno sa usare queste cose perché è tremendo quello devi mettere nel microfono sì ma vabbè perché c'è due brato ma non c'è niente non lo puoi scrivere quello in chat non lo puoi fare è un colore però una figlia di carlo con la villa 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 pili di gara con la rega mostro di posso posso dir il politico con in se ci sta però sono me intesa vincente era più carina del b intesa vincente dai non ho mai fatta guarda è vera me è vero è gravissimo è gravissimo perché l'intesa vincente è lo spirito di questa chiamata in cui siamo perché l'amicizia che va oltre i numeri va oltre lo status ma con giochi bravo congiunge congiunge e permette quell'intesa che solo da cari amici che si stanno conoscendo che si stanno amando nel solito contenuto possono capire tutto ciò non manca timoni dicono sempre lo dicono che cosa bisogna ricordare a bomba scelto non manca timoni dovresti sapere domare lo scognezzo magari assitati e devi stare attento mario ricordano sempre nemmeno formulare una frase siciliano è noioso bisogna chitta l'intesa vincente certo è un po' complicato sì no il sito è batta ricordarsi da tutto ricorda io ce l'ho io ce l'ho niente punto it saranno a bomba scelto non manca timoni eh sì sì l'ha detto lo diceva mussolini tanto tempo fa diceva io voglia di gelato cazzo però si immaginato non ci si ferma mai non ci dovete romando com'era che faceva il nuovo il motto di algida vincere che i gelati sono buoni no 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 a noi gelati piacciono era mi pare una cosa del genere mi sono sbagliato quello di motta mi sono sbagliati si è proprio tono grazie vedremo combattenti di mare di terra no quelle quelle twitch e twitch mare di cui ovviamente il primo esponente se si gioca più a cifra ma che confini una cifra grazie ma da benvenuto ma secondo me in tempo di organizzare abbiamo finito tutti la live però no mi vuotare è complicata ma ce la possiamo fare per forza dai ho detto pure forza consumi chiedere un po di canali che è un disastro no questo non lo devo chiudere poi se non disastro lo chiudo dio esatto grazie trattore ok io e dino froz se vogliamo spacchettare ma mia ragazzi che dinosauro interessante che strano questo commento un po bianco e nero come ti posso dire una cosa bruttissima che ho fatto oggi da chi ha combinato ho comprato un box pokemon a un negozietto a nettuno dove precisamente a un negozietto che ci sono gli sconti ai negoziati fammi vedere l'ho già aperto come in tutti i box pokemon c'è questa è la meglio aspetta l'ho messo a qui allora la storia organizzando è facendo le cose come 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 si fa un bel facendo bene e non si vedrà mai l'albero bellissimo mario fiasco un po perché si sente pochino no no non sto parlando vi sto sto guardando e mi sto in nervosa perché marione che siamo felici io voglio gelato cazzo poli ma io non ho sentito ancora la tua voce da quando sei entrato sta parlando sta ringraziando i sub mi sta spiegando come funziona la nuova pil bestemmia ma poi tra l'altro ha messo cinque punti interrogativi e scrive o perché cinque punti interrogativi e fatto la quarta generazione sarà la quinta maria ma c'è preso per de menti ma è effettivamente c'è dalla quinta che disastro che disastro che disastro che disastro che disastro il naso è una parte che ti sale del mio corpo che disastro terribile ragazzi che disastro che si si che disastro allora ok io no mario ma cosa ti vedo un po fiacco posso dire sono visibili sono visibilmente scosso scosso perché non mi aspettavo ritrovo di così tanti sorridi semplicemente capisco che si sta facendo un bordello della madonna e io mi metto a parlare un pochino meno non è che sono fiacco sono silenzioso perché se l'altro mi fa il gesto del naso se quello dice per forza ogni volta e poi diciamo come se fosse diverso e quello da 15 minuti in questa in questa gang serve un silenzioso che cazzo parla a fare ma che cazzo parla a fare quello balle il reggaeton per imitare il siciliano un bocchino da ragazzi ragazzi molto probabile mario continuiamo dai per favore lo che mi sta dando fatto siamo pronti tutti pronti vai vai grazie vi devo mettere lo schermo vi devo mettere vai butta dentro un attimo al volo ai butto dentro al volo è un secondo schermo dentro bene dai eccolo eccolo no vabbè si topperia missile però questa com'era però l'altra volta non c'erano mille tele a me le squadre bisogna fare facciamo noi siamo piccolissimi ragazzi da mario di bus così cosa allora allora è ovvio è ovvio qui no 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 non guardiamoci no no non prendiamoci in giro non prendiamo in giro è ovvio che sarebbe molto meglio con obs ninja è un signore che non prendiamoci in giro prendiamoci in giro spariti un secondo siamo un secondo ci siamo perché 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 sennò diciamo che il tempo è di come dovremmo tenere un pochino bruttino ecco non ha molto senso sopravvivibile prendermi per il culo mescoliamo un po dai mischia dai mischia dai mischia oh ma basta una volta già marco un sacco di volte metto le figurine qua dentro per te stesso questa no ascolta quanto sei agitato comunque mamma mia ma non c'è sì ti puoi dire niente si può 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 dire niente mi schia mischia mischia bene mischia ragazzi mi raccomando mischiate ma fatelo bene ok madonna la mia grafica incredibile guarda che bella la mia grafica pazzesca poteca e pazzo veramente bene ma che devo fare avete passato i link da qualche parte adesso dai no no clicca sui riguardi in alto a destra radio che devo fa in alto a destra ceo ci sono dei ricordi a poli ma non so che ne cazzo fai mele in cima c'è la incanda da quella parma è qui scomparsi tutti aiuto bisogno di chiamarlo che qua come le volevo fare squadre mischia io io poli e mario contro dario il fazione manuxo non ho capito che devo cioè non so come impostare niente lo so lo vedo però lo scrivo piccino tengo sì sì il giochino lo è piccolino solo gioca se non è un problema dai sturniolo dai mario basta basta polemica stai facendo un casino mario madonna che casino sono quello che sta facendo meno casino è veramente con quel dito le moci del dito con gli occhiali a quel paese o ma che fa parlato di fanculo io non di quel paese raffiniamola qua e allora adesso io farei inizia inizia il caliente fazione non ho mai giocato non so che devo fare devi semplici sentiti libero chi sarebbe carino sì se metti dimetti metti mettessi davanti magari la sciarpa della roma io prendo una birretta video la verità una birra ma se mi averlo chi devi coprire ti devi coprire gli occhi e ma muschio e dario ti diranno ti diranno delle immagino delle parole siamo forti e parole che ti faranno capire la parola che tu stai 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 per non vedere basta che faccio sta giocata non vedo più un cazzo però chiaramente in ogni squadra c'è uno che indovina gli altri due che dicono una parola ciascuno per fare indovinare lo capire si mezzo attenzione tolgo le cuffie che non vi sento ma c'è del suono attenzione c'è la musica del 100 300 mi dicono 300 splittate in tre ai vincitori e oggi ci si 300 sabbittate abbiamo qui ma perché oggi c'è lo sconto è solo gli sconti perché ci sono gli sconti che è bello dai poi poi benissimo fare semplicemente l'ostro di questo ti anni c'hai 13 non capisco calma ragazzi mario basta non ti devi non devi far saddam hussein fatto basta veramente mettere così che c'entra di pensare che stava fa un turbante se stava fa così mi invico